Beppe Grillo, il leader del Movimento 5 Stelle, avrebbe compiuto, avrebbe fatto una battuta nei riguardi degli autistici in particolare, l'avrebbe fatta domenica alla festa del Movimento 5 Stelle al Circo Massimo di Roma Capitale d'Italia e proprio per quella battuta ecco che ci sarebbe stata la polemica, sarebbe nata la polemica e Gianluca Nicoletti che è uno scrittore e un giornalista avrebbe detto non è bello prendere in giro noi autistici, darci degli psicopatici e usarci come oggetto di scherno, l'autismo è la malattia del secolo avrebbe detto il garante dei 5 Stelle, l'autismo non lo riconosce per esempio la sindrome di Aspenger e più di quei filosofi in tv che hanno la sindrome di Aspenger, che è la sindrome di quelli che parlano in quel modo e non capiscono che l'altro non sta capendo e vanno avanti e fanno magari esempi che non c'entrano nulla con quello che stanno dicendo hanno quel tono sempre uguale e pieno di psicopatici, così avrebbe dichiarato, vuoi o non vuoi però non ti ripeto che si sarebbero permessi di criticare aspramente le parole di Beppe Grillo leader del Movimento 5 Stelle, leader pentastellato. Cosa ne pensate voi esimi utenti di youtube? Fatemelo sapere, iscrivetevi, commentate, al prossimo video dal narratore italiano.